Grazie per essere con noi Salvini, anche perché insomma è un momento un po' complicato Io innanzitutto le ringrazio per aver confermato il suo impegno perché magari qualcun altro avrebbe adotto motivi di mal di testa o qualche indisposizione invece lei è con noi Gli italiani mi pagano lo stipendio e hanno diritto di sapere come occupo il mio tempo e a proposito di vita reale sono contento perché prima di me sentivo tante chiacchiere settimana scorsa abbiamo convinto Draghi e il governo a trovare 3 miliardi di euro per tagliare le tasse del governo sulle bollette della luce e del gas quindi lascio che altri parlino di legge elettorale, di Iusoli o di DLZAN per quello che ci riguarda la priorità in questo momento sono lavoro e taglio delle tasse e quindi di questo spero di riuscire a parlare Ecco, prima di parlare di questo vorrei però dare qualcosa sulla vicenda che riguarda il suo collaboratore nonché capo della comunicazione social Luca Morisi come sappiamo è indagato per cessione di stupefacenti lei quando l'ha saputa la notizia e che cosa gli ha detto quando l'ha saputa? perché leggiamo tante ricostruzioni No, l'ho saputo con voi, non c'è un reato è una scelta che sono problemi che riguardano la vita privata chi spaccia droga è un criminale chi la usa va aiutato, va curato perché commette un errore è per questo che io mi arrabbio con i miei colleghi parlamentari che parlano tranquillamente di legalizzare le droghe, liberalizzare le droghe distribuire le droghe, venderle online la droga è morte a me piacerebbe che chi parla di droga libera andasse a parlare con i ragazzi di San Patrignano con i volontari della comunità di Don Pierino Gelmini ad Amelia la droga è morte venderla è un reato consumarla è un errore io non lo faccio se qualcuno lo fa sbaglia però tenere in ballo tutto un discorso politico che non c'entra nulla con la vita privata di una persona che risponderà a se stesso eventualmente del male che si è fatto mi sembra veramente un attacco gratuito alla Lega per non parlare di altro a cinque giorni dal voto in Calabria, a Siena, a Milano, a Roma quindi abbiamo le spalle larghe sono vicino a chi ha sbagliato e per me l'amicizia vale più della politica ecco sì, Morisi ha chiesto scusa ha parlato di fragilità personali e lei Salvini appunto gli ha rinnovato il suo affetto e la sua amicizia però il tema è un altro il tema è che in tanti hanno notato che in passato sul tema della droga sia lei che Morisi anche nei confronti di chi assumeva stupefacenti queste parole non le avevate usate e volevo chiederle se chi spaccia droga è un criminale chi vende droga vende morte quello che lei fa a casa sua la sera è una scelta sua è un problema suo, non sta a me a giudicare quello che lei nella sua vita privata fa lei è una brava giornalista e questo mi interessa se qualcuno vende droga deve andare in galera perché chi vende droga soprattutto ai ragazzini vende morte e io finché campo mi opporrò a uno Stato che pensa di legalizzare e liberalizzare le droghe nella vita privata se uno sbaglia risponderà a se stesso volevo capire se il fatto che questa vicenda abbia colpito una persona alla quale lei vuole bene l'ha fatta riflettere anche sulle fragilità di altre persone cioè quella famosa citofonata per capirci in campagna elettorale in Emilia Romagna la rifarebbe ma quelli erano spacciatori ma lei non lo sapeva cioè lì non c'era una condanna però quelli erano spacciatori lo spacciatore ho fatto il ministro dell'interno infatti sono stati arrestati perdoni chi vende droga vende morte chi vende droga vende morte su questo spero che nessuno abbia dei dubbi chi consuma droga sbaglia e va aiutato va accompagnato va capito questo è però che ci siano giornali che stanno imbastendo da due giorni un processo politico a me e alla Lega sull'errore eventuale privato di una persona mi sembra surreale anche qua abbiamo parlato tre minuti di nulla la cosa vera è che io mi opporrò a qualsiasi referendum che legalizza le droghe ci sono cento parlamentari di PD e 5 Stelle che in Parlamento propongono di coltivarsi la droga a casa coltivarsi la droga a casa ma vi rendete conto? Follia al prima di passare ad altro il tema ovviamente è che c'è un'indagine che poi come sempre noi siamo garantisti prima ancora di lei eravamo garantisti anche con la persona alla quale lei aveva citofonato che è accusato di cessione di stupefacenti quindi di un reato poi noi ci auguriamo per Luca Morisi come per tutte tante altre persone di innocenti di dimostrare la propria innocenza che non ci sia un seguito perché è un indagine è scritto nel registro degli indagati e quindi il tema comunque è che appunto quello che notavano era appunto una differenza di occhio che io pensavo l'avesse fatta riflettere sul tema delle fragilità la mia è una considerazione umana anche quella che le facevo Salvini no no attenzione ci sono milioni di italiani che utilizzano gli psicofarmaci e questo è un dramma che durante l'anno e mezzo di covid è aumentato e queste persone vanno capite vanno ascoltate vanno prese per mano e aiutati a risollevarsi ma lo psicofarmaco è come la droga? per chi abusa di alcol beh guarda se uno abusa di alcol abusa di psicofarmaci o abusa di sostanze stupefacenti sicuramente ha bisogno di un aiuto però un conto è il consumatore che fa male a se stesso un conto è lo spacciatore io agli spacciatori farò guerra guerra senza quartiere finché campo e mi arrabbio quando ci sono colleghi parlamentari che vengono in Parlamento o in televisione a dire che però alcune droghe non fanno poi male e i ragazzi se usano alcune droghe non corrono dei rischi no ragazzi se siete davanti al televisore avete 14 anni la droga è morte tutte le droghe andiamo avanti sempre allora va beh Conte dice che il metro di giudizio è meno severo con gli amici vuole rispondergli che il suo metro di giudizio io non mi preoccupo e non mi occupo dei problemi personali di Conte dei problemi personali di Grillo e dei suoi figli e quindi evito di farmi gli affari altrui e mi occupo di taglio delle tasse di difendere quota 100 da un PD o da un 5 Stelle che vorrebbero tornare indietro alla legge Fornero e provo a evitare la partenza di milioni di cartelle esattoriali di Equitalia sotto i 10.000 euro che sarebbero un massacro per molte persone che sono davanti al televisore quindi lascio che gli altri facciano i guardoni e provo a occuparmi di vita vera e di italiani in difficoltà Salvini torniamo veniamo alle riaperture che quello sicuramente interessa a tutti anche le persone che lavorano nel teatro anche nelle stesse discoteche che comunque sono chiuse sappiamo che il CTS ha dato l'ok il parere non vincolante per una riapertura all'80% di teatri e cinema 75% per gli stadi abbiamo sentito Renzi che sarebbe favorevole a riaprire Franceschini il ministro del PD dice pure che sarebbe favorevole lei immagino che sia d'accordo allora cosa impedisce una riapertura con green pass e mascherina al 100% io azzardo per teatri e cinema chiedetelo a chi dice di no ma chi è che dice di no non l'ho capito è che Speranza chi è che dice di no la salute è Speranza non è Batman il ministro della salute è Speranza chiedetelo o a Draghi o a Speranza se il green pass ti rende sicuro così stanno stanno dicendo io ho due dosi ho il green pass e se col green pass puoi andare allo stadio puoi andare a teatro puoi farlo in piena capienza al cinema al museo allo stadio nelle balere nei locali per giovani nelle discoteche perché i giovani sono quelli che hanno sofferto più di tutti un anno e mezzo di scuola a distanza di università chiuse di niente allenamenti del pallone io l'ho visto con mio figlio un 48enne l'ha vissuta per carità di Dio male però mai come un ragazzino di 10 o 15 anni perché continuare a dire di no al divertimento legale e sicuro delle discoteche per i giovani e delle sale da ballo per gli anziani col green pass io non vorrei che ci fosse un accanimento contro queste imprese e questi lavoratori gli italiani sono ormai vaccinati oltre l'80% hanno dato fiducia alla scienza e allo Stato ora meritano fiducia quindi riapriamo tutto quello che si può riaprire sbaglio sul tema green pass si è trovato più d'accordo con Landini e con i sindacati rispetto ad altri esponenti del centro-destra forse anche a qualcuno del suo partito e questa cosa l'è dispiaciuta? no no guardi a me interessa che nessuna lavoratrice nessun lavoratore restino a casa senza stipendio soprattutto se sono medici poliziotti infermieri insegnanti pompieri carabinieri che si sono sacrificati durante un anno e mezzo di covid e perché non hanno il green pass oggi e ci sono milioni di italiani quasi 10 milioni di italiani che non hanno il green pass rimangono a casa senza stipendio e basta vaccinarsi quindi per questo la Lega chiede tamponi rapidi ma perché io devo pagare guardi che molta gente non può vaccinarsi i guariti non possono in alcuni casi avere il green pass però chi non può vaccinarsi ha i tamponi gratis insomma viene esentato dall'obbligo ci mancherebbe se uno ci facciamo ecco noi chiediamo che alle lavoratrici e ai lavoratori vengano forniti tamponi rapidi e gratuiti pensiamo a una famiglia che ha due o tre figli fra 12 e 15 anni non possono fare tre tamponi alla settimana pagando centinaia di euro ma perché io lo devo pagare io con le mie tasse per andare in parrocchia ma perché io lo devo pagare io con le mie tasse ma perché se lo Stato impone un obbligo lo Stato garantisce a un lavoratore l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro ci ricordiamo la Costituzione salute e lavoro sono sacri ok? e quindi io non lascio a casa senza stipendio neanche un poliziotto lo facciamo pagare al poliziotto il tampone che poi chiamiamo se c'ho un ladro in casa e potrebbe vaccinarsi però lo facciamo pagare all'infermiere il tampone perché non si vaccina? ma c'è l'obbligo vaccinale? no ma mi scusi c'è l'obbligo vaccinale in Italia io sono vaccinato questo mi dà diritto di pretendere che lei si vaccini? no lei potrà scegliere della sua vita che cosa fare? sì però diciamo che siccome ci siamo detti se crediamo a quello che ci dice la scienza e io a questo punto ci credo perché diciamo voglio anche uscire dalla pandemia quanto vuole uscire lei credo quanto tutti noi vogliamo tornare alla vita normale andare al cinema al teatro a ballare tutte le cose belle che ci piaceva fare e se ci dicono che la strada è vaccinarci tutti per evitare il dilagare di varianti allora io magari certo non è che mi fa più invitiamo a vaccinarsi capito quindi a quel punto spingiamo verso il vaccino però uno chi si è vaccinato ha fatto uno sforzo in più rispetto a chi non si è vaccinato senza stipendio milioni di lavoratori ma basta vaccinarsi il Green Pass a Londra c'è no non c'è a Berlino non c'è a Madrid c'è in Francia non c'è a Bruxelles non c'è a Stoccolma non c'è a Copenaghen ecco poi la storia dirà se questi obblighi mascherati in Italia erano giusti o no detto questo viva chi si è vaccinato non posso obbligare altre persone contro la loro volontà a fare lo stesso e io non voglio che neanche un poliziotto neanche un pompiere neanche un medico un infermiere o una maestra o un professore universitario rimangano a casa senza stipendio perché non è da paese civile senta Salvini domanda si parla di riforma del catasto sono curiosa di sapere che posizione avete perché c'è un tema diciamo di riforma del catasto lei forse è anche più giovane di me ma io ne sento parlare da quando appena ho iniziato a fare la giornalista politica siamo assolutamente contrari ecco c'è un tema di equità però leggiamo sui giornali ce lo può confermare lei ovviamente che è un partito che è il capo di un partito che sostiene il governo che il governo sta mettendo mano a una riforma del catasto per anche per diciamo la lega è assolutamente contraria a ogni tipo di aumento della tassa sulla casa la lega è assolutamente contraria a ogni tipo di aumento di tasse su case negozi capannoni terreni agricoli che gli italiani hanno già pagato e che sono già state tassate super tassate aumentare la tassa sulla casa degli italiani sarebbe ingiusto immorale e fermerebbe l'edilizia che fortunatamente sta dando lavoro a migliaia di artigiani e di piccole imprese ecco se ci fosse qualcuno che paga di più e qualcuno però che paga di meno voglio capire se voi aspettate che comunque il governo faccia la sua proposta come ha detto Renzi prima vediamo cosa propone il governo oppure se qualunque proposta già di per sé tutte le tabelle tutte le ipotesi di lavoro dimostrano che sostanzialmente sia sulla prima che sulla seconda casa il 90% degli italiani pagherebbe di più e quindi siccome già la prima e la seconda casa sono tassate 40 miliardi gli italiani pagano di tassa su casa loro e già questo secondo me è tutto da studiare 40 miliardi quindi io penso che gli italiani paghino anche troppo di tasse su case che hanno comprato col sudore col lavoro e quindi dimentichiamo ogni ipotesi di nuova tassa sulla casa sono contento che grazie alla Lega Draghi abbia trovato 3 miliardi per tagliare le tasse sulle bollette della luce e del gas stiamo lavorando per evitare che milioni di italiani si trovino la letterina verde della cartella di Equitalia a casa nelle prossime settimane perché dopo il covid sarebbe un disastro Salvini mi fa un pronostico come vanno queste amministrative io spero che tanta gente vada a votare c'è voglia di cambiamento perché Roma non merita altri 5 anni alla raggi fra immondizia e cinghiali e la stessa Milano io sono a Milano le periferie sono state totalmente dimenticate da Sala dal sindaco del PD che è molto presente in piazza del Duomo nel suo elegante ufficio però il Gratosoglio il Corvetto Ponte Lambro il Gallaratese che sono le periferie di Milano le ha dimenticate per 5 anni ricordo visto che non se lo ricorda mai nessuno che vota anche la regione Calabria votano 2 milioni di donne e uomini di una delle terre più belle e ahimè più disoccupate e dimenticate dalla politica negli ultimi 50 anni dalla strada statale 106 agli ospedali commissariati da Roma quindi io spero che votino in tanti poi ognuno si informi e scelga però tutti si ricordano di Roma Milano Torino e il centrodestra a Guidalega sicuramente otterrà più sindaci rispetto a quelli che abbiamo oggi però votano soprattutto i cittadini calabresi che è una terra straordinaria che non chiede favori raccomandazioni o redditi di cittadinanza a caso oggi è uscita un'altra inchiesta su altri centinaia di percettori di redditi di cittadinanza senza titolo alcuni dei quali andavano a rubare stranieri prendevano il reddito a spesa degli italiani intanto andavano a derubare altri italiani ecco il reddito di cittadinanza va confermato a chi non può lavorare a chi è disabile a chi è invalido a chi non ce la fa a lavorare ma a quelli che rifiutano di andare a lavorare o ai furbetti del reddito va assolutamente tagliato quando ha letto l'intervista di Giorgetti alla stampa che dice che Calenda che non è il suo candidato a Roma avrebbe le carte in regola per governare come le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma e può intercettare può vincere se intercetta i voti in uscita dalla destra leggo perché ovviamente voglio essere precisa cosa ha pensato quando ho letto questa intervista no non ho molto tempo per leggere interviste poi ho visto che Giorgetti ha smentito quello che c'è scritto io penso che a Roma Enrico Michetti abbia la competenza la preparazione giusta per ripartire dalle periferie non dal salotto di Calenda con tutto il rispetto e dei salotti di Calenda della Raggi di Gualtieri Roma è Torbella Monaca è Tor Pignattara è Re Bibbia è Ostia quindi Roma è stupenda ma è stata trascurata in questi anni di PD e 5 Stelle e quindi io sono convinto che chi è a casa meriti voglia città più sicure più pulite più efficienti poi per caità come Lega non abbiamo la bacchetta magica però da Ministro io avevo dimostrato che bloccare gli scafisti contrastare i trafficanti di esseri umani bloccare gli sbarchi di miglati candestini era possibile certo questo mi è costato qualche processo e andrò a processo a ottobre però sono orgoglioso di aver servito il mio paese e non vedo l'ora di tornare a farlo senta stavo leggendo un'altra frase che se non l'ha letta gliela leggo io del suo Ministro dello Sviluppo Economico l'interesse del paese è che Draghi vada subito al Quirinale che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince sottoscrive che prima o poi si vada al voto e io mi sto preparando a essere all'altezza per governare questo straordinario paese lo dice la democrazia poi a differenza di altri io non tiro per la giacchetta né Draghi né Mattarella mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di Draghi di Mattarella e soprattutto di chi paga lo stipendio ai politici davanti alla televisione perché siamo a fine settembre è troppo presto per parlarne dice lei in questo momento dobbiamo occuparci di scuola perché ci sono ancora troppi insegnanti di sostegno per i bimbi disabili che non ci sono nelle classi e io mi arrabbio come una bestia quando le mamme di questi bimbi speciali e straordinari rimangono a casa perché non c'è l'insegnante in classe perché non si è voluto stabilizzare i tanti precari che fanno gli insegnanti da troppi anni quindi io settembre ottobre novembre dicembre gennaio li impegno su questo evitare gli aumenti di tasse e offrire speranza agli italiani a febbraio ne riparleremo ho fatto un po' di domande anche su Berlusconi candidato del centrodestra curiosiva una cosa me la può dire ne riparleremo guardi ne riparleremo a febbraio in questo momento il mio obiettivo è stoppare la voglia di tasse di Letta e di Conte che sembra che si alzino la mattina e se non si inventano una tassa non sono felici addirittura stanno lì così proprio infervorati sulle tasse però io ovviamente da giornalista le domande gliele faccio ovviamente capisco che c'è ogni cosa a suo tempo allora domani siccome però all'inizio mi diceva anche che insomma i giornali stanno anche molto leggendo insomma l'ha detto leggo queste cose sui giornali Repubblica scrive che lei teme complotti per chiudere la strada verso Palazzo Chigi ora lei ha detto sono impegnato a meritarmi il ruolo di premier a Palazzo Chigi è vero che lei teme complotti o li vede? no no io leggo poco i fantasy che ci sono su alcuni giornali e su alcuni telegiornali preferisco parlare in maniera pacata e costruttiva come siamo riusciti a fare oggi di taglio di tasse di diritto alla scuola di pensioni perché se qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero a partire dal primo gennaio avrà in Matteo Salvini però quota 100 mi sembra di capire che il governo ha detto che quota 100 la salutiamo cioè non verrà rinnovata questo è sicuro credo o no? puoi cambiare nome ma grazie a questa quota 100 centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e ce ne saranno sicuramente davanti al televisore dopo una vita di lavoro si possono godere qualche anno di famiglia e di pensione e 200.000 giovani hanno cominciato a lavorare ma non verrà rinnovata a mezzo di Covid portare da 62 a 67 anni l'età per andare in pensione sarebbe una follia e quindi io porterò a Draghi e agli alleati di governo di sinistra la richiesta della Lega ma di milioni di italiani di non toccare quota 100 perché tornare alla legge Fornero come qualcuno vorrebbe a sinistra sarebbe un disastro per milioni di giovani e di anziani ultima domanda le elezioni tedesche hanno visto insomma un testa a testa fra i cristiano democratici e l'SPD però i cristiano democratici hanno perso molti voti il partito della Merkel e il partito social democratico ha guadagnato rispetto al passato ed è comunque circa due punti sopra l'età dice che dalla pandemia si esce a sinistra questo dimostrerebbe il voto tedesco e le faccio una domanda sui suoi alleati europei dell'AFD il partito dell'ultradestra tedesco che ha raggiunto un 10% che cosa ne pensa? ma mi ha scioccato la frase che lei mi ha riportato che mi ero perso cioè veramente una persona come Enrico Letta ha commentato il risultato delle elezioni in Germania dicendo che dalla pandemia si esce votando a sinistra? cioè ho capito bene? così mi dice sì virgolettate questa cosa c'è a me sembra una dichiarazione a me sembra una dichiarazione delirante usare la pandemia per fare pubblicità alla sinistra mi sembra veramente mancanza di rispetto nei confronti dei milioni di morti di pandemia perché se vince la destra io dico che la pandemia la sconfiggono quelli di destra ecco qualche politico prima di fare l'interesse del partito dovrebbe riflettere e portare rispetto a chi è morto di pandemia quindi mi spiace che il signor Letta si sia abbassato a tanto a me basta che il voto tedesco non rovini l'economia italiana e quindi che ci sia a Berlino qualcuno che a differenza del passato non si permetta di dire che gli italiani non possono aiutare le aziende non possono aiutare le imprese quindi che i tedeschi facciano legittimamente l'interesse dei tedeschi ma che Bruxelles e Berlino la smettano di imporre ai lavoratori e agli imprenditori italiani regole che danneggiano il nostro made in Italy perché io sono orgogliosamente italiano e vorrei che i prodotti italiani potessero avere il made in Italy obbligatorio grosso così ovunque vengano venduti e purtroppo le norme europee e anche su iniziativa di Berlino non lo permettono io sono orgoglioso dei prodotti dei nostri imprenditori spero che le elezioni tedesche portino al governo a Berlino qualcuno che eviti di fare guerra alle imprese alle banche e agli artigiani italiani la devo salutare Salvini la puntata è finita spazio al paradiso delle signore la ringrazio per essere stato con noi e ci si vedrà dopo le elezioni un abbraccio e grazie a voi per la pazienza e tutti quanti ci vi a tutti quanti ovviamente do appuntamento domani alle 14 grazie grazie grazie